Sessore c'è questa polemica delle ultime ore con gli assegnatari di alcuni posti all'interno del mercato di Alemusi. Vogliamo un attimo chiarire questa graduatoria che era stata fatta nel 2010? Innanzitutto diciamo per chiarezza che noi siamo impegnati nella riqualificazione dell'anima del mercato, cioè un mercato che abbina le attività classiche e attività di somministrazione che abbiamo lanciato nel piano inferiore con la Galleria Food. Detto questo nel 2010 per il piano superiore è stato fatto un bando e quindi a seguito una graduatoria su una progettualità che oggi risulta incongruente rispetto all'area di sviluppo perché immagina delle attività artigianali che poco coincidono con quello che oggi è diventato Piazza Muzzi e il mercato centrale di Piazza Muzzi. Questo vuol dire che noi non sfrattiamo nessuno perché non ci sono degli assegnatari contrattualizzati ma esiste una graduatoria del 2010 a cui la passata amministrazione non ha dato seguito. Noi oggi vogliamo immaginare lo sviluppo centrale di quel mercato, uno sviluppo sostenibile compreso nell'area riqualificata in maniera molto ampia, uno sviluppo che vada nell'ottica di quello che accade nei mercati europei, basti pensare a Barcellona o in Italia al mercato di Firenze che è diventata oltre che ad un'esperienza emozionale anche una vera e propria attrattiva turistica. Vogliamo lanciare questo mercato e non vogliamo mettere gli operatori in condizione di non poter lavorare perché le attività previste ormai otto anni fa non sono coincidenti con quello che è lo sviluppo commerciale della città. Su questo daremo un indirizzo chiaro, preciso e immagineremo che quel mercato dovrà continuare a correre per lo sviluppo della città ma anche per la soddisfazione degli operatori. Tutto questo lo faremo in maniera chiara e trasparente e sceglieremo in base alla migliore soluzione di sviluppo commerciale.